Alvia la giornata di screening gratuito per le donne di Scanno, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il dottor Alberto Bafile. È un'iniziativa importante che abbiamo voluto rivolgere alle donne nell'ambito delle attività di prevenzione dei tumori al seno. Le prenotazioni per un massimo di 25 persone sono state effettuate oggi, 6 luglio, dalle 17 alle 18.30 nella sede del comune di Scanno. L'appuntamento invece per le visite è per sabato, 8 luglio, nella Casa Comunale, afferma la consigliera Tiziana Di Marco, fautrice di questa giornata dedicata alle visite senologiche gratuite.